Tanta gente, tanti amici, tanti volontari all'ex area per fosfati di Cerea in provincia di Verona per celebrare i trent'anni di una festa molto sentita, ovvero la festa di Santa Lucia che come tradizione venne riuniti insieme gli ospiti delle case di riposo della zona, malati, disabili e volontari dell'unitansi diocesana. Una giornata speciale, un'occasione per stare assieme, così come sottolineato dal Vescovo Emerito della Diocesi Scaligera. E' bello perché ci ricorda che non soltanto gli aiuti materiali, per dire che pure sono necessari, ma la convivenza, lo stare insieme, fare conoscenza delle difficoltà dell'uno e dell'altro perché diventano più facili se le conosciamo e se le viviamo con amore. La giornata effettuata con il patrocinio del comune di Cerea si è aperta con la solenne Santa Messa ed è proseguita poi con un grande pranzo insieme e la vera e propria festa che ha fatto trascorrere ore serene a tutti. Basta guardarsi intorno, ci sono tanti amici, tante persone, soprattutto in questa occasione della Santa Lucia di Natale, dove nasce di nuovo Gesù, è molto bello trovarsi insieme. Questa è la riprova che l'unitansi non è soltanto pellegrinaggi, ma è anche aggregazione, amicizia. Si fanno delle amicizie stupende che poi durano nel tempo e sono la cosa che più ci gratifica.